Crevici di Voci dal Cilento, ben trovati all'appuntamento con l'informazione. Ho un ospite, Antonella Fasano, che saluto. Ciao Antonella. Ciao Annavelia, grazie per avermi invitato. Allora, sei mia gradita ospite per parlare dell'associazione Dynamikor di Corletto Monforte che in realtà è attiva da diversi anni, da quattro anni precisamente sul territorio. Ma insomma, nonostante questo periodo di difficoltà legate alla pandemia, avete comunque continuato in qualche modo con le vostre attività. E allora Antonella, vorrei proprio che tu ricordassi quali sono le motivazioni che hanno spinto te e diversi altri giovani del territorio a voler creare questa associazione. Allora, come hai già tu anticipato precedentemente, io faccio parte, sono membro dell'associazione giovanile Dynamikor che ha sede in Corletto Monforte. L'associazione nasce dalla voglia di noi giovani di dare vita ad un progetto nuovo, un progetto nel quale far convergere le nostre energie, le nostre idee, per creare una sorta di rete tra noi giovani del territorio. Questo progetto ha l'intento di operare per il territorio e nel territorio, che è quello di Corletto Monforte, e anche di operare per la nostra comunità. Perché noi riteniamo appunto che i giovani siano una risorsa per il territorio, soprattutto per un territorio dell'entroterra come il nostro. E quindi è importante non soltanto promuovere il territorio, ma far sì che i giovani siano proprio uno strumento di crescita per il territorio. Attualmente la nostra associazione conta più di 50 membri e svolgiamo diverse attività di carattere culturale, sociale, artistico. Che tipo di attività in questi anni avete realizzato? Anche se naturalmente immagino sia difficile sintetizzare tutto. Però ecco, su cosa vi siete concentrati in questi anni in particolare? Sono stati quattro anni molto intensi, dove abbiamo dato vita ad una serie di attività cadenzate nel corso degli anni. Cioè abbiamo cercato di svolgere delle attività che potessero interessare l'intera popolazione. Quindi non concentrarci soltanto nel periodo estivo, che è il periodo un po' più fiorente, diciamoci la verità, per un territorio come il nostro. Ma di fare attività sociali, ricreative, che potessero interessare tutta la popolazione. Sicuramente l'attività e il progetto che meglio ci rappresenta è Allevamenti. Un progetto che concretizza, sintetizza un po' tutti quelli che sono i campi d'azione della nostra associazione. Principalmente la promozione del territorio. Proprio per questo abbiamo deciso di sviluppare questo progetto in due giornate. Una giornata nella quale vogliamo dare luce a quelle che sono le nostre risorse montane. E poi un'altra giornata che si sviluppa interamente nel nostro centro storico, nel nostro burgo. Ovviamente con Allevamenti vogliamo unire quelli che sono i due aspetti della nostra associazione, che sono la tradizione legata al nostro territorio, ma anche l'innovazione che un'associazione giovanile porta all'interno di una comunità piccola come Corleto. E queste giornate sono caratterizzate da un tema centrale che noi scegliamo ogni anno, prendendo come punto di riferimento anche quelli che sono gli aspetti sociali ad ampio raggio. Noi vogliamo attraverso Allevamenti porre una lente di ingrandimento sul nostro territorio, ma anche cercare di affrontare delle tematiche di diversa natura e innovative. Diciamo che voi partite avvantaggiati, perché a Corleto Monforte c'è un centro storico eccezionale e ci sono tante risorse. Infatti in queste giornate, diciamo, nella seconda giornata di Allevamenti, noi ragazzi dell'associazione diamo anche l'opportunità a chi ha voglia di conoscere il nostro centro storico, quindi li portiamo in giro nel nostro centro storico raccontando quelle che sono le storie e gli aneddoti legati ad esso. La valorizzazione del patrimonio locale, che è quello che insomma bisognerebbe farlo a più livelli, non solo dal punto di vista del volontariato, cosa che comunque voi fate in maniera egregia. Tra l'altro, specie in questo periodo di difficoltà, lo dicevo anche in premessa, legato al coronavirus, avete anche sfruttato i social, che sono canali vicini, probabilmente proprio di più ai giovani, per veicolare le vostre idee, avete organizzato delle dirette, degli incontri virtuali. Sì, i social per noi sono stati sempre uno strumento importante, uno strumento, come hai detto tu anche precedentemente, di promozione del territorio, per far conoscere l'operato della nostra associazione, quello che facciamo. Infatti vi invitiamo anche a seguirci sulle nostre pagine social, su Instagram, su Facebook, dove ogni volta condividiamo tutte le nostre attività. Sono uno strumento anche di interazione con le realtà associative limitrofe, però in questo periodo così difficile abbiamo deciso di utilizzare anche noi il cosiddetto smart working, quindi di lavorare a distanza e di dare vita ad un'attività nuova, ad un format nuovo che abbiamo chiamato Ci vediamo allo sciuvolo, che è una frase per noi corletani emblematica, perché riassume proprio il senso di socialità. Lo sciuvolo è il luogo dove noi ci incontriamo, passiamo del tempo insieme, è un luogo che attraversa diverse generazioni, e quindi abbiamo deciso, in un momento in cui non è possibile incontrarci fisicamente, di incontrarci virtualmente, di dare vita ad una piazza virtuale nella quale poterci confrontare, discutere di diverse tematiche. Ovviamente questo format è nato per gioco, poi ha suscitato l'interesse di molte persone, e quindi abbiamo deciso di farlo diventare un vero e proprio appuntamento settimanale, dove potete affrontare delle tematiche diverse ogni settimana, legate sempre alla nostra cultura, alla nostra tradizione, e mantenere sempre vivo quel senso di socialità che da sempre caratterizza la nostra comunità. Ovviamente questo progetto è possibile grazie all'aiuto anche di un gruppo Facebook, che è il gruppo Corletani nel mondo, dove sono riuniti tutti i corletani che sono in giro per il mondo, per motivi di lavoro, per motivi familiari, che vivono fuori, ma che sono fortemente legati al nostro territorio. Vogliamo ricordare il prossimo appuntamento, so che è imminente. Sì, il prossimo appuntamento è venerdì prossimo, alle 21.15, potete seguirci cliccando il link sulle nostre pagine, o sulla pagina di Dynamico, o sulla pagina di Corletani nel mondo, e parleremo di cucina corletana, di tradizioni culinarie corletane, quindi sarà un viaggio tra i sapori, i colori della nostra cucina, e avremo in diretta anche delle signore di Corleto che cucineranno i piatti tipici della nostra tradizione, quindi parleremo attraverso anche contributi fotografici, interventi della tradizione culinaria corletana. Bene. In sintesi ed in chiusura, Antonella, quali sono gli obiettivi dell'Associazione per il futuro? Abbiamo tanti obiettivi in cantiere. Ovviamente a causa di questa emergenza sanitaria abbiamo dovuto sospendere tutto, sicuramente riprendere i nostri piccoli eventi, ma soprattutto riprendere il nostro evento principale, che è allevamenti, che già lo scorso anno abbiamo sospeso, speriamo di riprenderlo quest'anno. Allora ci riaggiorneremo per parlare ancora delle vostre attività, dell'attività dell'Associazione Dynamico di Corleto Monforte. Io saluto e ringrazio Antonella Fasano per essere stata mia ospite. Grazie, vi aspettiamo e ti aspettiamo. Grazie. Grazie a voi per l'attenzione. Grazie a voi per l'attenzione.